Per un'occasione come quella di stasera lo comprerei anch'io. Perché c'è qualche importante avvenimento? Sì, è qui da te, importantissimo. Beh, mi sembra un mercoledì come tanti altri, di quelli di cui è pieno il calendario. Eh no, stasera si inaugura l'ultima settimana dell'ingessatura del signor Jeffries. È un'inaugurazione per cui non ho visto una gran richiesta di inviti. È soltanto perché ne ho fatto incetta io. Senti, perché non lo butti via questo porta sigarette sgangherato? Ah, è un vecchio ricordo, dai. Ma effettivamente è un po' malandato. Sì, e poi non lo usi quasi mai. Sai che cosa farò? Te ne regalerò uno d'argento con incise le tue iniziali. No, non devi sprecare così il tuo denaro. Ma mi fa piacere. Che ne diresti di cominciare con una cenetta al colony? Ti sei portata forse un'ambulanza al seguito? No, mi sono portata il colony. Grazie molte, Charles. La cucina è laggiù a sinistra. È senz'altro la pena per questa occasione. Un grosso avvenimento mondano? Che si svolgerà qui, questa sera. Ma è solo un miserabile comune mercoledì. Il calendario ne è pieno. È la prima sera dell'ultima deprimente settimana del signor Jeffries ingessato. Già, ma non ho notato una pressante richiesta di biglietti o inviti. Ah, questo perché io ho comperato tutto il teatro. Questa scatola per sigarette ha visto giorni migliori. Ah, quella l'ho comprata a Shanghai. Anche Shanghai del resto ha visto giorni migliori. È rotta e non la usi mai. E poi è troppo ornata. Te ne ho fatta mandare una semplice in argento con le tue iniziali incise. Non è il modo migliore di spendere i tuoi sudati guadagni. Ma è un piacere. Che cosa ne diresti di cominciare con una cena al 21? Non avrai mica convocato un'ambulanza che ci aspetta qui sotto? No, ho fatto di meglio. Sei pronto? Scusa se ti ho fatto aspettare. La cucina è lì a sinistra.